Per tutta la passione che ci ha messo e il piacere di continuare a vederla qui tra noi ogni volta che ne avrà voglia e continuare a sottenerci. Per incominciare ci vediamo a sciacca. Per continuare e l'attività e la vita ci vedremo a sciacca. E' una speranza che ci possa brindare ancora, che non sia qualcuno che presenta un certificato, ma il dottore adentro no per il spiega, sopra le robe di sottenere. E' una settimana, facciamo in modo che ne vengono. Ascolta, noi partiamo venerdì, torniamo venerdì, il sabato dopo farai la dieta, farai tutte queste cose mediche. Il sabato. Grazie.